La poesia è vicina alle cose fondamentali della vita, la morte, il dolore, ma anche la gioia, l'intensità. E in un momento di smarrimento la poesia può un po' intanto anche lenire alcune ferite, ma può anche un po' orientare. La poesia, secondo me, può evitare un po' lo spaisamento in cui tutti ci troviamo. Dobbiamo avere uno sguardo di clemenza. Le cose guardate con clemenza possono diventare una farmacia. Ogni cosa guardata lungamente, guardata con attenzione, con amore, rilascia una sorta di sostanza buona. C'è il bene nelle cose e serve un po' anche a dimenticarci lo sguardo sul mondo. Nel libro dico Mi culo di me guardando fuori. Abbiamo assolutamente bisogno di dimenticarci un po' di noi stessi e di ricordarci che esistono gli altri. C'è il rischio che questa malattia in generi un ulteriore distanziamento tra gli esseri umani che già si era prodotto, cioè una rottura del sentimento comunitario, come se ogni uomo fosse un'isola. Noi dobbiamo stare distanti fisicamente ma vicini, diciamo così, con lo spirito. Questo è fondamentale perché se ci allontaniamo anche, diciamo così, con i cuori, poi è difficile ritrovarci. C'è il rischio che ci allontaniamo una volta per tutte. Io sono convinto che l'Italia si salverà anche ripartendo dai borghi. Dobbiamo riportare gli italiani dove stavano. Gli italiani stavano essenzialmente sulle Alpi, sull'Appennino, stavano in montagna. Poi negli ultimi 40-50 anni sono appunto andati verso le pianure. Bisogna ritrovare un equilibrio tra le coste e le aree interne. C'è troppa gente sulle coste, sulle pianure e poca gente nei paesi. C'è un grande patrimonio anche architettonico, proprio di alimentare. I paesi sono la terra del futuro. Ma io amo moltissimo le poesie di Sandro Penna e di Giorgio Caproni, non una, tante poesie. Ogni giorno c'è un verso che mi affiora alla mente. Ovviamente amo il padre di tutti che è Dante. Io penso che ogni italiano, ogni tanto dovrebbe imparare a memoria qualche verso di Dante e dirlo a qualcun altro. Cioè noi dovremmo scambiarci queste meraviglie che sono i versi ben fatti. Un verso ben fatto è un patrimonio dell'umanità. Sospeso sulle argille di una vecchia collana, il paese perde le sue perle. Frana.